Lo scolto di carburante costa molto le casse regionali e visto che la maggior parte degli introiti del prezzo della benzina, cioè arriviamo quasi a un euro con l'IVA, vanno allo Stato, abbiamo chiesto, ho detto al Presidente Federica, chiedo ufficialmente ai ministri competenti che il governo ci metta qualcosa. Il governo già che ci guadagna attraverso le accise per i rifornimenti di carburante dei cittadini della Venezia Giulia, aiuti la regione che copre tutte le spese nel coprire il costo di questo servizio che comunque va a vantaggio di tutte le parti. Ecco la richiesta da parte dell'assessore regionale Fabio Scocimarro, che lancia un messaggio di collaborazione direttamente a Roma. D'altro canto sono veramente tanti i cittadini che hanno scelto di non fare più rifornimenti in Slovenia per avere lo sconto garantito, al netto di un notevole risparmio nell'evitare di andare e tornare da oltre confine. Che alla fine la regione ci mette 29 centesimi sulla benzina, per esempio, i petrolieri ci mettono un extra sconto, e i cittadini le beneficiano giustamente, ma poi alla fine il grosso introito ce l'ha il governo nazionale, c'è lo Stato, l'Italia, insomma, tutti noi, però non i cittadini di Venezia Giulia. E quindi abbiamo chiesto una compartecipazione, quindi tutti facciamo un piccolo sacrificio e quindi vorremmo avere un extragettito da parte del governo subito. Sì, perché le spese che dovrà affrontare la regione anche in questa emergenza Covid-19 dopo la recrudescenza del virus ci sono eccome e un aiuto permetterebbe di dare per certa la continuazione di questo servizio che tanto ha funzionato finora, ha detta di tutti. In maniera che si possa continuare nei prossimi mesi, viceversa in questo momento di emergenza Covid le casse regionali non hanno la capacità di sopportare questo. In altri tempi si sarebbe fatto senza nessun problema. Quanto è costato la regione? La regione costa qualche milione al mese, quindi sono cifre importanti in questo momento.